ben trovati all'oroscopo di oggi venerdì 30 ottobre san germano ariete le giornate vivaci e ricche di emozioni purtroppo sono finite da oggi la luna è contraria lasciandovi a vedervela con la quotidianità niente comunque di grave toro accettate quell'incarico che non gradite solo perché avete bisogno di entrate extra ce l'avete con i vostri familiari che spendono un po troppo gemelli le interessanti possibilità che fino a ieri vi si schiudevano davanti potrebbero svanire la verità è che forse ci avete ricamato troppo creando situazioni poco calzanti con la realtà cancro finalmente la luna torna a prendersi a cuore alle vostre sorti quindi realizzate quello che da giorni era un desiderio proibito del tempo libero da trascorrere poi con gli amici leone siete poco inclini ad ascoltare le ragioni degli altri potreste essere perfino un po aggressivi abbiate almeno il buon senso di fare dei distinguo a seconda dell'interlocutore che vi trovate davanti vergine la luna torna amica potete mettere in campo tutta la vostra determinazione affrontare ogni difficoltà il lavoro ha bisogno di attenzioni particolari una situazione va affrontata e risolta al più presto sono molte le questioni di lavoro in arretrato amici della bilancia avete privilegiato il tempo libero e lo svago e adesso vi trovate un po in affanno è arrivato il momento di ristabilire le giuste priorità scorpione sul lavoro se tenete occhi e orecchie ben aperti potrete disporre di numerose e ottime occasioni per migliorare la vostra posizione professionale sagittario con venere marte armonici non c'è davvero storia in amore i vostri desideri eppure i sogni più impossibili diventeranno una splendida realtà capricorno con il partner ci sono stati motivi di screzio e non sapete come rimediare ma provate scrivetegli magari un messaggio e fate parlare il vostro cuore acquario oggi vi viene voglia di mettere mano al portafogli ad ogni piesso spinto vi pare il modo più semplice per conquistare la benevolenza altrui in chiusura ai pesci le sorti del vostro segno si sollevano finalmente tornate a sorridere amici dei pesci recuperate fascino carisma e anche simpatia